Raccontare la fede attraverso l'arte e insegnare a farlo a chi vive questa esperienza a contatto con i giovani, con i ragazzi, con i bambini. È questo l'obiettivo che l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno e la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi di Napoli, con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna a Cerno, hanno assunto promuovendo il corso di Alta Formazione Insegnare la Religione con l'Arte. Il percorso rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado partirà il prossimo 6 novembre e avrà come titolo Arte e Bellezza tra Dolore e Speranza. Un percorso in undici tappe che, come spiega il direttore della Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia, Jean-Paul Hernandez, porterà i docenti alla scoperta di alcune tappe dell'infinita via della bellezza che è senza dubbio strada privilegiata per accompagnare gli studenti alla ricerca del volto di Dio. Chi insegna religione, ma il discorso vale per gli insegnanti di ogni materia, soprattutto per quelli cristiani, non può ignorare la via della bellezza. Per percorrerla è però necessario essere ben equipaggiati, imparando a coniugare analisi esegetica dei passi salienti dell'Antico e del Nuovo Testamento e lettura storico-critica delle opere. Il corso, ideato in collaborazione con la Fondazione San Fedele di Milano, si svolgerà tra Milano e Salerno, con la possibilità di seguire le lezioni anche online. Al corso, accreditato dal MIUR quale interrogatore di corsi di aggiornamento per docenti, è possibile iscriversi fino al 30 settembre 2021. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia.